L'operazione Movida Sicura scatta anche nelle piazze aretine. Anche Arezzo sarà infatti toccata dall'iniziativa anti-covid nell'ultimo weekend di agosto, quello del rientro. Si tratta della campagna di prevenzione promossa dall'assessorato regionale al diritto alla salute nei luoghi della vita notturna frequentati soprattutto dai ragazzi. Venerdì 28 e sabato 29, così nelle piazze della Movida di Arezzo, sarà allestito un gazebo che ospiterà dei volontari che metteranno a disposizione dei giovani i test sierologici gratuiti per valutare un'eventuale positività al covid-19. A fare test ci saranno su base volontaria, personale aslo e volontariato sociale, misericordie, ampas e croce rossa italiana. L'iniziativa anti-covid sarà ovviamente su base volontaria. I risultati del test saranno disponibili in 15 minuti e verranno trasmessi in tempo reale alla regione toscana. Chi dovesse risultare positivo dovrà poi sottoporsi al tampone molecolare per verificare se l'infezione è in fase attiva. Ancora non sono stati individuati i punti nei quali saranno piazzate le tende, ma il quadro sembra comunque ben chiaro. Le due zone più calde della Movida sono infatti Piazza San Francesco e Piazza Grande. Saranno infine messi a disposizione dei ragazzi anche mascherine e gel.